È stata una corsa contro il tempo, ma un primo traguardo è stato raggiunto. Nei giorni scorsi si è conclusa la gara d'appalto per il primo stralcio della rigenerazione urbana del compendio delle ex caserme Zannettelli di Feltre. Si tratta della parte vincolata, tutelata alla sovraintendenza, cioè la palazzina a comando, le due palazzine compagnie più le salmerie retrostanti, la parte storica diciamo, in cui siamo riusciti in corsa a avere la proprietà del demanio, fare il progetto, appaltarlo, c'è stata la gara d'appalto, c'è un'impresa affidataria e cominceranno a brevi lavori. Dovremmo fare una gran corsa per la conclusione prevista per la primavera del 26. Un'operazione alla quale si lavora da una decina d'anni e che ora finalmente prenderà forma. Il primo stralcio vale in totale 5.708.972 euro, finanziati dalla PNRR per 5 milioni. Altri 700.000 euro sono finanziati con i fondi per i comuni di confine mentre la parte restante è a carico del comune di Feltre. La palazzina a comando viene recuperata interamente e vengono trasferiti i vigili urbani che avranno finalmente una sede dignitosa e anche un presidio perché il compendio della caserma è molto esteso e ha bisogno anche di un controllo diciamo. Sopra sono a disposizione per altri uffici e associazioni e facciamo il recupero delle altre due palazzine. Il tetto intanto lo mettiamo in salvaguardia in attesa di trovare una collocazione. Noi abbiamo proposto su questo ai comuni bellunesi l'ab archivistico della provincia di Belluno e aspettiamo una risposta, un segno di favore in questo senso.